Ho fatto giovedì e domenica hai già bagnato l'esordio con un gol e la corsa sotto il settore ospiti dei tifosi. Sì, avevo tanta voglia di arrivare e dare subito il mio contributo alla squadra e sono contento per aver dato il primo punto al Ponsacco e quindi spero di continuare e voglio continuare così. Penso di aver iniziato nei migliori dei modi, quindi è ben augurante. Cos'è mancato per vincere questa partita? Io credo che forse se fosse girato qualche episodio a nostro favore oggi magari avremmo portato via tre punti, però credo che bisogna vedere la reazione della squadra, una partita difficile, su un campo difficile, quindi credo che alla fine il pareggio ci possa star bene e va bene così, dai. Ecco, sei arrivato alla corte il presidente Donati e Diandello Perini che già conoscevi a Pisa Sporting Club, il presidente ieri vi ha portato tutto il ritiro qua vicino a Casternovo per farvi capire che è un impegno importante, sai che sei arrivato ad una società importante, sai che bisogna vincere per forza. Io, come hai detto già, conosco un po' l'ambiente, o meglio, gli addetti ai lavori, so che la piazza quale sia Ponzacco, insomma, quindi che ha grande voglia di tornare nel calcio che conta e niente, quindi sapevo benissimo dove venire e dove arrivare. Quindi spero di portare il mio contributo e dare sempre il massimo ogni domenica quando il ministro mi chiamerà. Ecco, se il nostro cameraman ci inquadra il ginocchio di Federico Balestri, cosa è successo? Mica nulla di preoccupante. Io purtroppo è la vecchiaia, ho qualche problemino e niente, piano piano spero di risolverlo, comunque sono contento, va bene così. Ecco, fra quanto chiami Iaio per la telefonata dopo partita? Fra cinque minuti chiamo Iaio. Ok, grazie Fede.